via tre dalla Gambia Tijani Keita in corsia quattro dalla Danimarca Stef Udengar Knudsen corsia cinque lunedì al duemila e ventuno fu terzo dell'europeo quarto ai mondiali nella quattro per cento ha ugualiato recentemente il personale a dieci e quarantatré Angelo Ulisse stagionale di dieci e cinquantasei per Nicolás Artuso grazie a tutti parte questa seconda serie mentre l'applauso erano per Olga Corsun, Fornasari e Keita poi escono Ulisse e vince Keita dieci e quarantotto ufficioso per il ragazzo del Gambia Tijani Keita vento valevole più 1,4 nell'alto siamo ancora a due metri e cinque mentre inizia la gara